. . . . . . . . Sono presenti al Tresiduo e ripostibili. Occupato. Terreno riportato nell'NCTL FG10, particelle NN, 145 dia 0 aprile 2000 0 Bosco C2 CL. 2, 1206 dia 0 barra 21 barra 80 SEM. IR. ARB. CL. 1, 1207 dia 0 gennaio 70 SEM. IR.ARB. CL. 1. 1276, ex 1205 barra A, via 0 2002 SEM.IR.ARB. CL. 1, 1278, ex 1208 barra A, via 0 marzo 64 SEM.IR.ARB. CL. 1, 1280, ex 144 barra A, via 0 febbraio 34 Pascolo CL. 3, 1281 Ex 144 barra B, via 0, 16 Pascolo CL. 3, 1598 dia 0 marzo 91 SEM. IR.ARB. CL. 1. Occupato. Sito in, via Fiego Paula, Cosenza. Prezzo base, 295.938, 86 centesimi. Vendita senza incanto, 4 dicembre 2018, ore, 10. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 17.50. Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N. 1, in palla, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottor Fabio Buono, e-mail, studiofabiobuonocchiocciolalibero.it, telefono, 0982585685320703500134970000903 Tribunale di Palla, esecuzioni immobiliari, 41 fratto 11, lotto unico. Abitazione di tipo civile a due divani 3,5, piano T1. Libera e nella disponibilità del custode. Corte. Corte. Sito in, Contrada Castromurro Belvedere Marittimo, Cosenza. Prezzo base, 45.005 euro e 63 centesimi. Vendita senza incanto, 6 dicembre 2018, ore, 10. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 17.52. Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N. 1, in Palla, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Francesca Valentino, e-mail, francalisachiocciolalibero.it, telefono, 3293763889 Tribunale di Palla, esecuzioni immobiliari, 89 fratto 14, lotto unico. Appartamento, sottotetto, di civile abitazione al piano terzo di un fabbricato, situato in zona centrale di Cetraro Marina nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, consistenza van 2,5, superficie calpestabile metri quadri 36, superficie lorda metri quadri 44 e superficie lorda adibita a terrazzi di metri quadri 20,10 con altezza media di MT. 2,53, composto da ingresso barra corridoio, soggiorno, angolo cottura, letto e WC, non presenta pertinenze né accessori o altro. Nella disponibilità del custode. Sito in, via stazione e traversa Cetraro, Cosenza. Prezzo base, 29.155 euro. Vendita senza incanto, 14 dicembre 2018, ore, 10. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 17.54. Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N.1, in Palla, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Ragionier Francesco Marchese, e-mail, studiomarchesexchiocciolallibero.it, telefono, 0985877273. Tribunale di Palla, esecuzioni immobiliari, 72 fratto 12, lotto 3. Appartamento adibito a civile abitazione al piano primo di un edificio a tre piani FT oltre piano interrato, della superficie lorda di metri quadri 70 oltre metri quadri 29 circa di balcone. Pur essendo censita in catasto come ultimata, si presenta rustico in ogni sua parte. Predisposizione elettrica ed idrica ormai desuetta e non ha norma. Libro. Sito in, via Cratia-Mantea, Cosenza. Prezzo base, 27.341 euro e 10 centesimi. Vendita senza incanto, 19 dicembre 2018, ore, 11. Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 17.54 Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza N.2, in Pana, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Maria Giuseppina Cardaciotto, e-mail, pinacardaciotto-tiscoli.it, telefono, 335-666-2750. Tribunale di Pana, esecuzioni immobiliari, 72 fratto 12, lotto 4. Appartamento adibito a civile abitazione al piano secondo di un edificio a tre piani FT oltre piano interrato, della superficie lorda di metri quadri 200 oltre metri quadri 50 di balconi, composto da tre camere da letto, studio, salone, cucina soggiorno con annesso piccolo ripostiglio, due bagni e ripostiglio. Impianti elettrico ed idrico non conformi alla normativa vigente. Occupazione temporanea autorizzata dal GE Sito in, via Cratia Mantea, Cosenza Prezzo base, 113.733 euro Vendita senza incanto, 19 dicembre 2018, ore, 11 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 17 e 54 Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza M. 2, in Pana, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Dottoressa Maria Giuseppina Cardaciotto E-mail, pinacardaciotto-tiscoli.it Telefono, 335-666-2750 Tribunale di Pana, esecuzioni immobiliari, 60 fratto 14, lotto unico Appartamento Sito al piano primo di metri quadri 126 di superficie lorda di cui metri quadri 96 di superficie netta e metri quadri 23 di superficie destinata a balconi, vani 6 catastali Occupato senza titolo Autorimessa al piano terra di metri quadri 24 di superficie lorda di cui metri quadri 20 di superficie netta Sito in, via Amalfi-Cetraro, Cosenza Prezzo base, 48.280 euro Vendita senza incanto, 21 dicembre 2018, ore, 9.30 Vendita con incanto, 26 febbraio 2019, ore, 17.57 Luogo della vendita, sala aste telematiche, stanza M. 1, in Pana, C.S., via G. Falcone e P. Borsellino, 8 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita Avvocato Claudia Pizzurro, e-mail, claudia.pizzurro.it, telefono, 0982583603 Grazie a tutti!